questo prima dobbiamo cucinare affinché il vino diciamo l'alcol del vino evapora quando poi evapora facciamo un'altra cosa mettiamo del sughetto che già avevo preparato già prima e l'aggiungiamo qua però parlando parlando mi ricordo che ancora mi scudai una cosa andiamo qua nel salotto qua c'è la nostra data che sta fanno delle pulizie scederendo la pulizia ecco sminchiatela attento a dove fai per assaporire il sughetto un po di più aggiungo un po di massalina qualunque massalina non deve essere proprio quella cara cara che fai una massalina ordinaria va anche bene a me questa me l'hanno regalata perciò più ordinaria da così non si può non ci ha un po di massalina ecco come pare un altro po di massalina un altro po di massalina ecco ora ne è rimasto un altro po di massalina mettiamo un altro po di massalina dai non ce ne è più e chiedo che ne fanno proprio e ce ne è più ah bellissimo ecco ora facciamo accotturare un altro po di massalina questo sughetto diciamo così facciamo accotturare ma l'italiano tradotto in italiano ma tu ti vuoi fare le cosetto e le sovizzatoie benedetta donna ma parla giù per l'italiano a cotturare si dice ma io parlo come parlo scusi eh ecco a parantono parla pura come parla anche quello parla un granice cosa si chiama questo? Dichetto Dichetto come parliamo l'italiano come parla ma c'è già pensato ma che sa come parla come parla come parla diventerà un tigliolotto MIGIE 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 ma ce lo stai rogando ma ce lo stai rogando guarda mio guarda mio io sono un attore peggio male l'olto e allora già noi l'abbiamo fatto cucinare questo coso questo coso adesso aggiungiamo come avevo detto la salsa il sughetto che avevo già preparato prima però questa ricetta non me la posso dare perchè è una ricetta privata che ho inventato io e purtroppo mi piace 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 ma non ci ha potuto spargare il tempo no così è più elegante se ci fa la possè non vale non spiegare ecco scusi ora questo qua noi lo facciamo acculturare cucinare 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 perché non mi scordo ma ci vuole un'ora quando dieci minuti qua ci vuole un'ora per farlo bello perchè quel sughetto viene bello denso deve venire una crema quando uno è bello cremato e mette sopra un piatto vede una bella crema un poco liquida ancora questa cosa deve cucinare la vostra è fatta insomma, non sopra è un pozzo in un pozzo un pozzo a sconti un pozzo un pozzo un pozzo Grazie a tutti Grazie a tutti